buongiorno a tutti allora oggi giornata di video cominciamo subito a parlare di sci perché sabato si è tornati a disputare le gare di coppa del mondo di sci purtroppo le olimpiadi per vari motivi sia perché eurosport di sky non ha voluto trasmetterle sia per gli orari che erano abbastanza improponibili sia per il fatto che le gare ogni tanto saltavano perché c'era vento le spostavano non sapevi a che ora le spostavano eccetera le olimpiadi le ho seguite un po così quindi ho preferito non fare video perché non ero proprio ferratissimo poi non riuscivo neanche a stargli dietro e ho detto ah intanto non muore nessuno devo dire che sono andate piuttosto bene abbiamo portato a casa delle belle benaglie almeno con le ragazze purtroppo con i maschietti non è andata come speravamo ma l'avevo detto anche prima delle olimpiadi comunque niente partiamo subito con le gare di sabato poi domani farò il video con le gare di domenica sabato c'è stato un gigante maschile a crani scagora e poi c'è stato un super g femminile a crans montana che uno sente crans montana pensare negli stati uniti invece in svizzera comunque niente partiamo col gigante maschile di crani scagora chi volete che abbia vinto marcel hirscher che ha preso la prima coppa di specialità 125 punti più di il povero christopherson che non ne può più e quindi andiamo nel dettaglio allora prima ma ha visto hirscher al primo posto come al solito christopher era a 73 centesimi gli altri erano oltre il secondo 1 e 41 crans che pinturò e 1 e 64 i nostri italiani c'era leprendini ottavo poi sedicesimo bosca che è sceso con un numero alto riuscito a inserirsi tra i migliori italiani al sedicesimo posto poi manfred morga al diciottesimo tonetti al ventiduesimo e borsotti al ventisettesimo seconda manche diciamo che più o meno le posizioni sono rimaste invariate e naturalmente prima che scendesse hirscher al primo posto c'era christopherson quindi pinturò hogan che aveva superato kranjek e che appunto kranjek quarto è sceso hirscher che comunque aveva 73 centesimi di vantaggio su christopherson e gli ha dato altri 93 centesimi quindi primo hirscher secondo christopherson a 1 e 66 terzo pinturò a 2 e 51 quarto hogan a 2 e 78 e vinto kranjek a 3 e 44 e parliamo dei primi cinque quindi figuratevi gli altri questi sono distacchi che neanche stemmer riusciva a dare cioè veramente è un mostro hirscher in questo momento e penso che christopherson si senta veramente come quello che c'è davanti il campione e lui è capitato nel momento sbagliato e ha sempre davanti quello che è più forte di lui nonostante lui sia bravissimo per quanto riguarda gli italiani allora purtroppo de alliprendini è uscito dopo poche porte quindi era l'unico che poteva stare dei dieci è uscito bosca ha perso due posizioni però un diciottesimo posto è un'ottima comunque performance per lui che comunque partiva con un numero alto morga è arrivato diciannovesimo quindi ha perso una posizione tonetti è rimasto invariato al ventiduesimo posto e borsotti ha recuperato tre posizioni dal ventisettesimo arrivato ventiquattresimo ma capite che per noi italiani abituati a tomba e a altri sciatori queste posizioni veramente sono un pianto veniamo al super g femminile super g femminile che ha visto la vittoria di tina weirath davanti ad anna welt a 36 centesimi questi sono gli stacchi più umani terza la wendy oldenair che è scesa col numero 31 e ha scalzato quando ormai pensava di avercela fatta la nostra federica visione brignone e la ghisin che erano terza pari merito dall'appunto dal podio quindi la oldenair è arrivata terza a 38 centesimi quarta brignone la ghisin punta pari merito a 51 centesimi e sesta la christine sheyer a 57 centesimi le altre italiane se la sono abbastanza cavata la snarf come sempre nei dieci è decima quindi lei la sua garetta la fa sempre bene malino la gogia che è arrivata a quindicesima sedicesima la bassino ma è scesa col 37 quindi un'ottima posizione ventiduesima la del lago bene abbiamo detto tutto domani appunto farò il video per quanto riguarda le gare di domenica e ci vediamo appunto domani ciao